Finalmente è stato ufficializzato il nuovo allenatore del Napoli. Si tratta di Rudy Garcia, ex Roma, che quindi ha già un'esperienza nel campionato italiano. Una scelta che è ricaduta su di lui dopo il no di Galtier e soprattutto il no di Luis Enrique. Per quanto riguarda lo spagnolo c'è la volontà di andare in Premier, dall'altra parte invece il francese Galtier deve prima risolvere il proprio contratto con il Paris Saint-Germain per poi accordarsi con altre squadre. Rudy Garcia ha sicuramente un curriculum internazionale. È stato accolto al meglio dal presidente Aurelio De Laurentiis che attraverso i social ha avuto modo di dargli l'imbocca al lupo per la sua nuova esperienza. Raccoglie un'eredità importante, quella di Luciano Spalletti, allenatore che ha scritto a suo modo la storia del Napoli calcio, vincendo il terzo scudetto dopo 33 anni e soprattutto assicurando alla società degli anni a venire che sicuramente potranno essere costruiti al meglio siccome c'è una rosa di assoluto livello. Dovrebbe andare via solo Kim, Victor Rosimane e Kvaraschelia resteranno a Napoli almeno per il momento. Vedremo poi Garcia come vorrà intervenire sul mercato affinché possa rinforzare la squadra e soprattutto affinché possa garantire ai tifosi una rosa competitiva per innalzare ancora più il livello della squadra, soprattutto in Champions League.